Noi donne siamo sempre di corsa durante la giornata, eppure dobbiamo sempre essere perfette. Sapete qual è il mio segreto di bellezza? In borsa tengo sempre un rossetto ed un mascara che mi permette di essere al top in pochissimi secondi. Io ho provato questi due prodotti di Kiotis, guardate la recensione! Nella borsa di una donna non devono mai mancare rossetto e mascara, proprio come vi mostravo nell'intro. Io ho avuto l'opportunità di provare questi due prodotti di Kiotis e adesso vi racconto un pochino come mi sono trovata. Partiamo dal mascara. Il mascara è color nero, vi mostro lo scovolino. Questo è lo scovolino. Mi sono trovata veramente molto molto bene con questo mascara. È un mascara che dura a lungo e infoltisce tantissimo le ciglia. Io ho notato veramente la differenza. Nel momento dell'applicazione le vostre ciglia risulteranno immediatamente più voluminose, belle a vedersi. Uno spettacolo! È perfetto per completare il vostro make-up. Il rossetto, che è quello che indosso in questo momento, questo qui, esiste in diverse colorazioni. Io ho Rouge Cabaret. Mi sono trovata piuttosto bene con questo rossetto. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è il fatto che tende leggermente a scivolare. Però non so se è dovuto alle mie labbra o se succede a chiunque. È un rossetto molto molto bello. Il colore è stupendo. Mi piace tantissimo. È uno dei miei colori tipici. Fa veramente la sua figura. È molto confortevole sulle labbra. Vai a idratarle. Non va assolutamente a seccare le labbra. Anzi, risultano veramente idratate. È confortevole indossarlo. È uno di quei rossetti che vale la pena provare. E vi consiglio di provare. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti. Vi dico già che arriveranno altre recensioni sui prodotti di Kiotis. Ci saranno diverse cose che vi mostrerò. Vi ringrazio appunto per aver visto questo video. E ci vediamo al prossimo. Un bacio!